Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Un'infanzia traumatica, un'adolescenza travagliata e un futuro segnato dal crimine. Ecco alcuni tasselli che compongono lo scuro mosaico del caso di oggi. Miranda Camille Dean nasce il 14 dicembre 1994 in Alaska, dove vive con sua madre Elisabeth, suo padre Sonny e sua sorella maggiore Ashley. Quando Miranda compie due anni si scopre che ha una displasia congenita, un'anomalia dello sviluppo. A causa di questa condizione piuttosto dolorosa, l'articolazione dell'anca nei bambini più piccoli non si forma correttamente. Miranda quindi deve indossare dei tutori per i fianchi e le gambe per circa tre anni nel tentativo di risolvere il problema. La bambina riesce a riprendersi da questa patologia e non molto tempo dopo, suo zio Richard si trasferisce in città. Un evento che le segnerà l'infanzia. Richard è sposato con la sorella di Elisabeth, che è la mamma di Miranda, e la coppia ha una figlia che è quasi coetanea della bambina. Per questo motivo Miranda e sua sorella maggiore Ashley passano spesso del tempo a casa degli zii. Ma purtroppo quelli non sono pomeriggi dediti a giochi spensierati perché le due sorelline, in quell'oscura dimora, vengono sottoposte a orribili abusi. Miranda ha soltanto quattro anni mentre Ashley ne ha sei e in questo tremendo periodo subiscono entrambe violenza intima regolarmente. Le sorelle sono costrette a giurare di mantenere il segreto sulle azioni perverse dello zio, ma alla fine Ashley decide di confidare a sua mamma Elisabeth quello che sta succedendo. Comprensibilmente la donna è sommersa dalla rabbia e dalla tristezza e si reca immediatamente dalla polizia. Viene avviata l'indagine e gli investigatori arrivano a casa dello zio Richard, dove trovano un manoscritto dal titolo Divertirsi con i figli di mia sorella. In questa sorta di manuale Richard incoraggia i padri, gli zii e i nonni a impegnarsi in attività intime con le loro figlie o nipoti. Descrive anche nel dettaglio tutte le molestie suggerite che lui in prima persona sta esercitando su Ashley e Miranda. Come detto, Richard ha anche una figlia, ma non è emerso se la stesse sottoponendo al medesimo trattamento riservato alle sue nipoti. Di certo questo non mi stupirebbe, visto che nel manuale incoraggia anche i padri ad approfittarsi del corpo delle proprie figlie. Fortunatamente Richard viene arrestato e condannato a 19 anni di carcere, ma in realtà viene rilasciato dopo soli 10 anni. Una volta scontata la pena detentiva, viola di continuo la libertà condizionale e commette costantemente dei nuovi reati. Ad esempio guarda ossessivamente dei video indecenti su minori e raccoglie anche delle immagini altrettanto oscene che li raffigurano. Quindi Richard viene arrestato di nuovo e rispedito in prigione, ma stavolta viene condannato a 40 anni di carcere. E grazie ai giudici, ancora oggi, continua a essere rinchiuso nella sua cella. Mi limito a dire che quest'essere umano, che di umano per quanto mi riguarda ha poco, è a dir poco disgustoso. E come detto, gli ausi subiti generano un enorme e dannoso impatto sulla vita di Miranda. Sua madre Elizabeth sa esattamente di quali traumi ora soffriranno le sue bambine, perché anche lei, ahimè, aveva subito molte intime da parte di suo padre. Chiaramente Elizabeth diventa molto protettiva nei confronti delle figlie, non le lascia più a lungo nemmeno a casa dei loro amici, perché teme che possa riaccadere il peggio. Elizabeth ha amaramente scoperto che aveva sbagliato a fidarsi del marito di sua sorella, un membro della sua famiglia. In realtà anche Richard, da bambino, aveva subito molte intime. In ogni caso, a seguito della sua condanna, quando Miranda ha ormai 5 anni, la famiglia decide di trasferirsi a Palmer, sempre in Alaska. Miranda inizia a frequentare una nuova scuola e tutto sembra andare alla grande, ma l'apparenza a volte è ben diversa dal mondo che ognuno costudisce all'interno. Miranda sta ancora lottando per venire a patti con quello che le è successo. Infatti, all'età di appena 5 anni, scrive sul suo diario Mi sento sporca, violata, ferita e mi vergogno. Come poteva pensare di avere il diritto di ferire me e mia sorella? Volevo che soffrisse più di quanto aveva ferito me. Il tempo passa e quando Miranda compie 12 anni, la sua vita prende un'altra svolta negativa, perché la ragazzina scappa di casa per la prima volta. In questo periodo ha incontrato un uomo di 25 anni di nome Forrest, che risulterebbe essere il leader di una setta satanica. Non è noto quanto tempo Miranda rimanga fuori casa, ma quando torna racconta tutto a sua madre di questo Forrest e lo descrive come il suo proprietario. Sulla setta in realtà non vengono riportate delle informazioni specifiche e non emergono delle prove che ne accertino l'esistenza. Non sappiamo neanche se quest'uomo di nome Forrest sia reale, tutto è limitato al racconto di Miranda, una dichiarazione che potrebbe non rispecchiare appieno la verità. Questo anche perché, come dovete sapere, Miranda è una bugiarda patologica. A 12 anni continua a scappare di casa, a stare via per due o tre giorni, sempre in compagnia di Forrest e a frequentare la sua setta. Appena inserita in questo pericoloso gruppo, Miranda inizia a bere alcolici, ad assumere sostanze, che diventa più violenta. Viene sospesa da scuola perché litiga sempre con tutti, quindi, anche se l'esistenza della setta satanica è in discussione, di certo la ragazzina, quando scappa, si rifugia presso un gruppo di adolescenti poco raccomandabili. Si tratta di ragazzi più grandi, che si comportano male, che coltivano vizi insidiosi e, forse, a loro, piace definirsi come una setta, pur non rappresentandola nel pieno senso del termine. Durante la sua adolescenza, dunque, Miranda continua a battagliare con la sua salute mentale. Prova addirittura a togliersi la vita diverse volte, allora sua madre la fa ricoverare in una struttura che possa assisterla. Così, già all'età di 13 anni, Miranda assume diversi farmaci da prescrizione, come il Prozac per la depressione, l'Adderal per l'ADHD, ossia il disturbo da deficit dell'attenzione, e qualche altro medicinale per gestire la schizofrenia e il bipolarismo. La madre di Miranda, man mano, appare sempre più disconnessa da questa situazione. Ormai la stanca a preoccuparsi di una figlia così problematica. Non abbiamo quasi parlato del padre di Miranda, Sonny Dean, che infatti non è un genitore particolarmente presente. Lui ed Elisabeth divorzano quando Miranda è adolescente e anche questo evento non aiuta il clima familiare a rasserenarsi. Poco dopo la fine del matrimonio, anche la vita di Elisabeth prende una brutta piega. Trascorre il suo tempo con altri uomini, pure lei beve molto e assume diverse sostanze. A fronte di questo, nemmeno il padre di Miranda le presta attenzione, quindi la ragazzina non è seguita da nessuna figura genitoriale. Si sente incredibilmente sola e isolata mentre lotta con tutte le forze per sconfiggere i suoi demoni, e infatti non riesce a sopraffarli. Miranda diventa un membro di alto rango della setta e inizia ad andare a letto con molti uomini in cambio di denaro. Così rimane incinta. Tuttavia il misterioso Forrest le impone di abortire e Miranda esegue l'ordine. Tuttavia all'età di 17 anni Miranda rimane nuovamente incinta, ma questa volta decide di tenere il bambino. Nessuno sa con certezza chi sia il padre, anche se Forrest ritiene di esserlo. Miranda intanto vive ancora con sua madre, ma la loro relazione ormai non è delle migliori. Elisabeth non si prende cura nemmeno di se stessa, quindi sua figlia continua a essere disorientata. Sente di non avere altra scelta che non sia quella di scrivere una lettera al Dottor Phil. Dottor Phil è un talk show scandalistico statunitense condotto da Philip Calvin McGraw, uno psicologo, autore televisivo e conduttore americano. Miranda spera con tutto il cuore che il Dottor Phil intervenga e aiuti la sua famiglia. Ora vi leggerò le parti più salienti di questa lettera. Cara Dottor Phil, da quando i miei genitori hanno divorziato, mia madre è diventata un'alcolista. Prende un sacco di pillole, incontra uomini su internet e le invita a venire da noi. Afferma anche di avere un cancro al terzo stadio, ma non smette di bere o di prendere tutte quelle pillole. Dice che non le interessa più vivere con me, mia sorella. Voglio aiutarla, ma non so come farlo. Lei nega tutto. Sto chiedendo aiuto, per favore. Grazie per avermi ascoltata. Miranda Il Dottor Phil però non risponde mai a questa lettera, ma nel frattempo le autorità competenti stabiliscono che Elizabeth non è in grado di prendersi cura di Miranda, che viene quindi affidata ad alcuni parenti che vivono nella Carolina del Nord. Nel 2011, quando Miranda ha 17 anni, incontra un ragazzo di nome Elliot Barbour, che ha tre anni in più di lei. Elliot è il figlio unico di due coniugi molto religiosi e uniti, ed è già fidanzato con una ragazza di nome Amy. Anche lei in dolce attesa, proprio come Miranda. Le ragazze infatti partoriscono a un paio di mesi di distanza l'una dall'altra ed entrambe danno alla luce delle bambine. Miranda, Elliot e Amy passano sempre più tempo insieme tra loro e con le loro neonate, aiutandosi a vicenda. Tuttavia, non molto tempo dopo la nascita della figlia di Elliot, il ragazzo va in overdose per l'uso sconsiderato di una sostanza psicoattiva. Riesce a salvarsi, ma ora non sembra più lo stesso. Elliot, in realtà, fin dall'età di 5 anni, afferma di sentire delle voci nella sua testa e anche lui era stata diagnosticata la schizofrenia. Ecco perché usa molte sostanze e sostiene che, quando è alterato, queste voci si fermino. Purtroppo, quando Elliot si riprende, non smette di bere e di consumare sostanze, anzi, lo fa ancora più spesso, diventando sempre più violento e aggressivo. Questa situazione porta Elliot e Amy a litigare costantemente. Infatti, la coppia decide di lasciarsi. Il ragazzo, subito dopo la rottura, inizia una relazione con Miranda, anche se alcune voci riportano che i due fossero già amanti quando Elliot era impegnato con Amy. Miranda ed Elliot hanno legato, pure perché lui è particolarmente ossessionato dall'occulto e dal satanismo. I due vivono anche dei rapporti intimi particolari, per non dire lesionistici, infatti si procurano delle ferite a vicenda, tagliandosi e unendosi nell'atto quando entrambi iniziano a sanguinare. La relazione tra i due si intensifica piuttosto rapidamente, infatti non passa molto tempo prima che diventino ossessionati l'uno dall'altra. Circa un anno dopo, quando Miranda ha 18 anni, lei ed Elliot scappano e si sposano senza dirlo a nessuno. Una volta tornati a casa da marito e moglie, comunicano la loro decisione di lasciare la Carolina del Nord. Così Elliot, Miranda e sua figlia, che si chiama Aria, si trasferiscono in Pensilvania. È il novembre del 2013 quando arrivano a destinazione e si stabiliscono a casa di un'amica di nome Shay. La coppia si è licenziata dai rispettivi lavori, quindi ora che si trova in Pensilvania ha un disperato bisogno di soldi. Allora Miranda naviga su Craigslist e crea un annuncio. Offre la sua compagnia in cambio di denaro. Questa per Miranda non è una novità. Anche nella Carolina del Nord, ogni volta che era a corto di finanze pubblicava questo tipo di annunci su siti web simili. Elliot ne è al corrente e non si oppone perché Miranda non è mai andata a letto con questi uomini. Faceva loro soltanto compagnia. A seguito dell'annuncio pubblicato su Craigslist, Miranda riceve un messaggio da Troy La Ferrara, un uomo di 42 anni che vive a Samburi, in Pensilvania, sposato da circa due anni con una donna di nome Colleen. Troy si era laureato alla Pennsylvania State University e attualmente lavora come ingegnere senior. Viene descritto come una persona estremamente amorevole, tuttavia da anni conduce una doppia vita. Contatta altre donne su siti web come Craigslist per cercare nuova compagnia femminile, ma non solo, vuole anche consumare dei rapporti intimi. Miranda e Troy organizzano un incontro pattuendo che lui dovrà pagarla 100 dollari, ma Troy ignora il vero piano di Miranda e del suo fidanzato Elliot, che stanno addirittura progettando di ucciderlo. E non intendono farlo perché Troy si è comportato male, ma soltanto per assecondare il loro macabro e perfido desiderio di ammazzare qualcuno. La coppia infatti discuteva da un po' di voler fare qualcosa di estremo e ha concluso che commettere un delitto sia una buona idea. Vogliono farlo e ora ne hanno l'occasione. Troy, seguendo le direttive di Miranda e all'oscuro della presenza di Elliot, sa che dovrà incontrarla in un parcheggio. Miranda, secondo il piano, farà salire Troy a bordo della sua macchina mentre Elliot rimarrà nascosto sul sedile posteriore. Miranda guiderà verso una zona più appartata, dicendo a Troy che è adatta per consumare il loro incontro, tuttavia lungo il tragitto la vittima verrà uccisa. Quando Miranda pronuncerà la frase in codice che hanno concordato, cioè hai visto le stelle stasera? Elliot salterà fuori dal nascondiglio per attaccare Troy. L'11 novembre del 2013 Troy incontra Miranda nel parcheggio indicato e sale nella sua auto. I due viaggiano per 6 miglia fino a raggiungere la seconda casa di Troy, quello e il luogo dove hanno scelto di appartarsi. Elliot intanto è sdraiato sul sedile posteriore sotto una coperta, quindi Troy non ha idea che ci sia qualcun altro in macchina. Mentre Troy e Miranda chiacchierano, lei dimenti dicendo che in realtà ha solo 16 anni e non 18, ma Troy risponde che non gli importa, questo sempre a detta di Miranda. Miranda quindi continua a guidare. A un certo punto esclama la frase in codice, ovvero hai visto le stelle stasera? Tuttavia Elliot non entra in azione come concordato, forse non l'ha sentita o forse vuole tirarsi indietro. Allora Miranda, sempre più vicina alla seconda casa di Troy, ripete la frase in codice, ma ancora Elliot non interviene. A questo punto Miranda si gira e dà un pugno sulla gamba di Elliot per attirare la sua attenzione e farlo agire. Soltanto ora Elliot sbuca dalla coperta e attacca Troy. Afferra un pezzo di cavo della tv che si era portato dietro e lo avvolge attorno al collo della vittima seduta sul sedile anteriore del passeggero. Elliot cerca di strangolare Troy, ma l'uomo reagisce. Miranda capisce che Elliot non ha il controllo della situazione, allora afferra un coltello e inizia a pugnalare Troy. Lui però non si dà per vinto, riesce ad aprire la portiera della macchina e a mettere una gamba fuori nel tentativo di slanciarsi dal veicolo. La luce all'interno dell'abitacolo è accesa, la strada che percorrono è piuttosto trafficata, quindi Miranda teme che qualcuno possa osservare questa scena. Così urla Elliot, la portiera è aperta, chiudila. Miranda rallenta l'avanzata, Elliot scende dall'auto e spinge la gamba di Troy all'interno del veicolo. Nel frattempo Miranda non ha mai smesso di pugnalare la loro preda, infatti quando Elliot risale a bordo Troy è già stato colpito per un totale di 20 volte. Troy ormai non è più in grado di lottare, sta sanguinando cupiosamente, ansima e alla fine viene a mancare a causa delle ferite riportate. A questo punto Elliot e Miranda cercano di coprire l'omicidio, guidano fino a raggiungere un veicolo a un paio di isolati dal luogo dell'aggressione e scaricano il corpo di Troy. In realtà si presume che Troy fosse ancora vivo quando è stato barbaramente abbandonato, il che è così triste. Forse sarebbe riuscito a sopravvivere se gli avessero prestato soccorso immediatamente. Inoltre prima di allontanarsi i due assassini gli rubano il portafoglio che all'interno contiene 150 dollari, poi si dirigono verso l'ipermercato Walmart più vicino per comprare dei prodotti per la pulizia della macchina. Come potete immaginare si è trattato di un attacco piuttosto frenetico, dunque c'è sangue sparso ovunque. Elliot entra da Walmart e compra dei sacchi della spazzatura, degli asciugamani di carta, la candeggina e un detergente per tappeti. In auto i due criminali raggiungono una zona isolata e iniziano a pulire il veicolo. Una volta terminato decidono di concedersi un bel pasto usando il resto dei 150 dollari sottratti a Troy. Tra l'altro è anche il giorno del compleanno di Elliot. La coppia festeggia in un pub dove si gode un gustoso hamburger, poi al termine del pasto Miranda dice a Elliot ti avevo promesso che ti avrei portato in uno strip club per il tuo compleanno, quindi andiamo. Onestamente non riesco a capacitarmi di come queste persone possano riprendere la loro vita tranquillamente dopo aver commesso un omicidio così orribile e insensato. Elliot e Miranda trascorrono il tempo fuori a divertirsi, ma il giorno successivo la polizia scopre del cadavere di Troy e avvia immediatamente un'indagine. La vittima riporta 20 ferite da taglio nelle zone di viso, collo, spalla e busto. Inoltre viene individuato anche il cavo televisivo utilizzato da Elliot per tentare di strangolarlo. Si rinviene pure il cellulare di Troy sulla scena del crimine, quindi gli agenti controllano subito la cronologia delle sue chiamate. Scoprono che la sera dell'omicidio l'uomo ha effettuato due telefonate allo stesso numero, che appartiene a una certa Miranda Barbour. I detective localizzano Miranda, la prelevano e la portano alla stazione di polizia per interrogarla. Le chiedono come conosca Troy e che tipo di relazione abbiano. Devono essere piuttosto intimi, visto che lei è stata l'ultima persona a cui lui ha telefonato prima di morire. La polizia ha scoperto che Troy era solito cercare compagnia femminile su siti web come Craigslist. Miranda ammette che avrebbero dovuto incontrarsi, ma dice che non è mai successo, convinta che la polizia creda la sua menzogna e si dimentichi di lei. Ma i detective ovviamente sono scrupolosi, non si fidano di lei e del suo comportamento. Il suo linguaggio del corpo e la scelta delle parole che sta pronunciando li portano a dubitare. Miranda dal canto suo prova in continuazione a deviare rispetto all'argomento principale dell'interrogatorio, ovvero l'omicidio di Troy. Ripete di voler tornare a casa dalla sua bambina, ma la polizia insiste perché bisogna far luce su un delitto terribile e lei è l'ultima persona a cui la vittima ha telefonato. I detective chiedono a Miranda di consegnare loro il suo telefono per verificare se le sue parole corrispondono alla realtà. Così Miranda perde la testa. Agitata ribadisce che questo è ingiusto nei suoi confronti e che prima gli investigatori l'hanno informata che lei ha il diritto di lasciare la stanza degli interrogatori, cosa che sta per fare perché è molto offesa. Non c'è bisogno di esaminare il suo telefono perché quell'uomo lei non l'ha mai incontrato in vita sua. Peraltro non è neanche una donna singola, infatti si è sposata da poco. I detective notano che questa reazione di Miranda è sospetta. Nessuno si infuria e si sottrae alle richieste così, a meno che non sia il colpevole. Miranda a questo punto cerca di uscire dalla sala interrogatori, ma un detective la insegue e lei gli urla contro non toccarmi più volte. La polizia, che ora sospetta maggiormente di Miranda, vuole interrogare anche suo marito Elliot. Forse anche lui è coinvolto? Esattamente come Miranda pure Elliot nega tutto e sente il bisogno di chiarire che sua moglie offre solo compagnia. Non si concede intimamente. Dopo questi due interrogatori la polizia lascia andare sia Miranda che Elliot. Di certo sono due sospettati, ma al momento non ci sono prove sufficienti per trattenerli. La coppia quindi torna a casa dall'amica Shay e i tre decidono di uscire insieme. Stanno conversando quando all'improvviso Miranda dice a Shay, ho pugnalato a morte un uomo. Shay le suggerisce di arrendersi e consegnarsi alla polizia e sorprendentemente Miranda è d'accordo. I tre rientrano a casa, Miranda va a salutare sua figlia e nel frattempo Elliot scoppia in lacrime. Cerca di trattenere sua moglie ma la ragazza è convinta, esce di casa e si dirige alla stazione di polizia. Sono circa le 4 del mattino quando Miranda arriva, ma alla fine non confessa la pura verità. Spiega che sì, si è incontrata con Troy, ma inventa che quando lui è salito nella sua macchina l'ha aggredita, per cui lei l'ha ucciso per legittima difesa. La polizia ascolta la nuova versione di Miranda e la reputa poco convincente. I conti non tornano, quindi i detective decidono di riparlare con Elliot. La polizia intanto è riuscita a ottenere le riprese di alcune telecamera a circuito chiuso che mostrano Miranda, Troy ed Elliot insieme in macchina. Quindi nel momento in cui i detective parlano con Elliot lo avvertono di questi filmati, dunque non può più mentire. Elliot allora pronuncia queste esatte parole. Oh cavolo, immagino che il gioco sia finito, poi si alza, recupera una sigaretta e aggiunge. Suppongo che questa sarà l'ultima che fumerò da uomo libero. Il detective adesso è alquanto confuso perché stava indagando sulla storia dell'autodifesa di Miranda e non pensava che Elliot fosse coinvolto a tal punto. Il ragazzo, ricondotto nella sala interrogatori, stavolta confessa tutto. Rivela che lui e Miranda stavano pianificando l'omicidio di Troy, quindi la polizia scopre che si è trattato di un delitto premeditato. I detective continuano a interrogare Elliot, vogliono sapere cosa fosse successo nel dettaglio e il ragazzo li accontenta, esponendo tutto con estrema freddezza. Spiega il modo in cui aveva attaccato Troy e rivela pure che dopo l'omicidio aveva mangiato un delizioso hamburger insieme a Miranda. Sembra quasi che Elliot non riesca a cogliere la gravità di quello che ha appena confessato. Sia Miranda che Elliot vengono arrestati e accusati di omicidio, anche se la polizia non conosce il movente che sta dietro il delitto. Dato che la coppia aveva rubato il portafoglio di Troy, si ipotizza che tale movente abbia una natura finanziaria e questo vuol dire che i due assassini potrebbero aggiudicarsi la pena di morte. Nell'istruttoria del processo sia Elliot che Miranda si dichiarano non colpevoli, nonostante Elliot avesse confessato tutto. I media a questo punto impazziscono per il caso, specialmente nell'interessarsi a Miranda. Mi capita spesso di apprendere che, quando l'assassina è una donna, ai giornalisti esalta particolarmente sensazionalizzare il tutto. A volte tendono addirittura a romanzare e drammatizzare il vissuto della protagonista. Tra l'altro emerge la notizia che Miranda facesse parte di una setta satanica e questo è un argomento che i media presentano sempre con grossi titoloni da prima pagina. Miranda dal canto suo cavalca l'onda in cerca di attenzioni, vuole assicurarsi di avere il suo momento sotto i riflettori, esternando la storia perfetta. La ragazza richiede un'intervista con un giornalista, al quale rivela che quello non è affatto il suo primo omicidio, bensì afferma di aver commesso più di 20 delitti. Quindi è una serial. Non ci sono prove che supportino questa sua affermazione, eppure tutti ci credono. Se fosse vero, Miranda sarebbe la serial più prolifica della storia moderna degli Stati Uniti. Miranda dice al giornalista che si era macchiata del suo primo omicidio a 13 anni, quando si era unita a quella setta satanica. Spiega che Forrest è colui che le aveva mostrato come uccidere e le aveva aiutata a compiere il suo primo delitto. Le aveva spiegato come attirare un ragazzo che l'avrebbe pagata in cambio di un rapporto intimo, e si era diretta con la sua preda in un vicolo. A questo punto il leader della setta, ovvero questo Foster, era spuntato dietro Miranda e aveva sparato al ragazzo adescato che era piombato a terra. Poi Forrest aveva passato la pistola a Miranda e le aveva detto, ora devi farlo tu, ma lei non era riuscita a premere il grilletto. Così Forrest aveva appoggiato la propria mano sulla sua e l'aveva incoraggiata a compiere il gesto letale. Questo è ciò che racconta Miranda. A seguito di questa intervista un rappresentante della chiesa di Satana si fa avanti per prendere le distanze da Miranda. Afferma che la ragazza mente perché non è in alcun modo affiliata alla religione satanista e non riflette affatto le loro convinzioni. Miranda dal canto suo insiste con la storia dei molteplici omicidi commessi. Sostiene che i corpi delle sue vittime si trovino nascosti in tutti gli Stati Uniti, che li aveva seppelliti in Alaska, in California, in Texas e in Florida. Miranda però precisa che ogni singola persona che ha ammazzato aveva un'indole cattiva e meritava di morire. Ad esempio aveva ucciso Troy perché gli aveva detto che lei aveva soltanto 16 anni, ma lui non importava che fosse così giovane, era ugualmente deciso a portarla a letto. Anche Elliot viene coinvolto e conferma la storia secondo cui Miranda avrebbe ucciso più di 20 persone. Ma non è finita qui, sentite. Elliot è anche convinto che Miranda sia posseduta da un demone e quando questo demone sceglie di assumere il controllo del suo corpo Miranda cambia, diventa una persona diversa e allora lui la chiama Super Miranda. Quindi non è Miranda la vera colpevole di tutti quegli omicidi, ma Super Miranda. A seguito di quest'ultimo interrogatorio viene coinvolta anche l'FBI. Bisogna prendere sul serio queste affermazioni dato che Miranda ha già certamente ucciso una persona. Tuttavia alla fine gli agenti concludono che Miranda sta mentendo, non è una serial o almeno non ci sono prove che lo suggeriscano. E diciamocelo se qualcuno afferma di aver ucciso circa una ventina di persone qualche prova deve pure emergere. Anche perché quando Miranda ha assassinato Troy è stata catturata letteralmente il giorno successivo. Anche il padre di Miranda viene ascoltato dalla polizia e lui afferma che sua figlia non è una serial, piuttosto è una bugiarda seriale. E anche la sorella Ashley la definisce come una maestra nel mentire, al punto che si ispirava al personaggio televisivo Dexter, che è un serial. In ogni caso Miranda ed Elliot devono affrontare il processo per l'omicidio di Troy. Vi ricordo che entrambi si erano dichiarati non colpevoli e mi chiedo con quale faccia. Infatti decidono di cambiare la loro dichiarazione in colpevoli di omicidio di secondo grado, così da poter evitare il processo e nello specifico la pena di morte. Vengono condannati entrambi all'ergastolo ma questa storia non finisce qui perché torniamo a parlare del dottor Phil. Nel 2014 la sorella di Miranda e sua madre, quindi Ashley ed Elizabeth, appaiono proprio nello show del dottor Phil. Durante questa puntata Ashley incolpa sua madre per tutto, spiega che sua sorella all'età di 13 anni scappava di casa e stava fuori anche per tre giorni. Intanto sua madre ignorava quei segnali d'allarme evidenti. Miranda faceva parte di una setta o comunque era in una gang. Ashley ora pretende una cosa soltanto, che sua madre ammetta le proprie colpe e chieda scusa. Dopodiché sarà pronta a un nuovo inizio, a rincominciare da capo, vuole diventare una madre e prendersi cura di sé. Purtroppo nel 2016, a distanza di due anni dall'intervista da dottor Phil, Elizabeth si toglie la vita. La situazione di Miranda l'ha messa a dura prova mentre cercava di affrontare anche i propri demoni. Prendeva troppi farmaci da prescrizione e si è procurata un'overdose. Nello stesso anno Miranda chiede il divorzio da Elliot e durante una conferenza stampa rivela il vero movente dietro l'omicidio di Troy. Miranda afferma di aver ucciso Troy perché voleva essere arrestata e in questo modo sua figlia Aria sarebbe stata adottata e avrebbe avuto una vita migliore. Nel 2018 Miranda parla di nuovo con i giornalisti e ammette che la storia di aver ucciso più di 20 persone, precisamente 22, è una bugia. Nello stesso periodo chiede anche che la sua pena detentiva venga ridotta perché aveva vissuto un'infanzia traumatica che l'ha poi portata a compiere l'omicidio. Lei quindi non si ritiene pienamente responsabile del crimine messo in atto. La sua richiesta però viene rispinta e Miranda è tuttora in prigione a scontare la sua condanna all'ergastolo. In un certo senso io le credo o quantomeno ritengo che abbia davvero vissuto un'infanzia traumatica che può averla fatta incamminare sulla strada sbagliata ma questo non la rende meno responsabile. Miranda resta una bugiarda seriale in cerca di continue attenzioni e credo che siano molteplici gli aspetti che possono averla condizionata nel commettere il delitto. Gli abbi che ha subito nella sua infanzia a mio avviso rappresentano il fattore più influente perché hanno alterato il suo benessere mentale e il suo percorso di vita. Miranda poi ha smesso di ricevere sufficienti attenzioni da parte dei suoi genitori. Suo padre era lontano e non faceva realmente parte della sua vita. Sua madre era diventata distante, usciva con le persone sbagliate, assumeva sostanze dannose e questo ha sicuramente disorientato Miranda. Inoltre non era inserita in un ambiente familiare stabile, non ha ricevuto adeguato supporto per affrontare il trauma vissuto da bambina. Fin da ragazzina lottava contro il malessere mentale, vi ricordo infatti che le erano state diagnosticati la schizofrenia e il disturbo bipolare e che soffriva di depressione. Probabilmente non verrà mai a galla il vero motivo per cui Miranda ha ucciso Troy. Io onestamente non credo che volesse farsi arrestare per permettere a sua figlia di essere adottata da una famiglia migliore. Non ci sarebbe stato bisogno di arrivare a tanto, è più credibile che Miranda ed Elliot avessero una relazione tossica. Loro non si facevano del bene a vicenda e per qualche ingiustificabile motivo avevano deciso di togliere la vita a un uomo innocente. Troy e la sua famiglia sono le vittime di questa storia. Sua moglie Colleen dopo la tragedia ha detto pubblicamente non importa quello che dicono gli altri e non importa quale decisione Troy può aver preso. Lui mi amava, mi ama e nessuno può portarmelo via. Nessuno lo farà. Si conclude così il caso di Miranda e Elliot Barbour, un'indicifrabile coppia assassina. Sono assolutamente curiosa di sapere cosa ne pensate di questo caso e se lo conoscevate già. Ma soprattutto sono curiosa di sapere cosa ne pensate del movente dell'omicidio. Dato che non sono emerse risposte chiare per questo caso. Quindi fatemi sapere quali sono le vostre idee qui sotto nei commenti. Io non vedo l'ora di leggervi tutti. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene e mi raccomando prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!